ci siamo quasi e intanto saluto i primi che si connettono che vedo vito carbonara umberto de carlo aspettiamo un attimo che tutti possano collegarsi per iniziare questa diretta nel frattempo vedete anche io come tutti voi consulto i siti ciao maria barbara siracusa ciao eugenio irsuti ciao a tutti voi consulto le pagine facebook e le pagine dei quotidiani del fatto quotidiano della notizia nella speranza che ci siano buone notizie a proposito della crisi di governo che con grande incoscienza qualcuno ha deciso di innescare proprio in un momento dove invece serve stabilità dove invece serve responsabilità dove invece serve una figura autorevole che gestisca l'italia in questi mesi che verranno che sono i decisivi saluto angelo battista saluto dina buffone saluto francesco tumatis agatino giannino tutti voi scusate se non riesco a salutarvi tutti quando vedo qualche messaggio vi saluto aspetto ancora qualche minuto affinché tutti possiate collegarvi e iniziare la discussione però vi dico una cosa vi ricordo una cosa importante adesso condividete questa diretta subito nelle vostre pagine nei gruppi nelle pagine facebook nei vostri profili personali facciamole circolare le informazioni dibattiti sani perché tutti possiamo sbagliare tutti possiamo avere delle idee non condivisibili ma è bene sempre distinguere molto nettamente l'informazione libera chi fa informazione da chi fa informazione perché legata a determinati padroni è ottimo il lavoro fatto oggi per questo vi dico condividete anche nelle chat nelle chat di whatsapp nelle chat di telegram di messenger condividete le notizie che vi interessano se vi fa piacere condividete anche queste dirette e i contenuti della mia pagina facebook dicevo ha fatto un ottimo lavoro il fatto quotidiano il fatto quotidiano è un quotidiano un po particolare lo dobbiamo ricordare perché perché il fatto ha sempre fin dalla sua nascita camminato sulle proprie gambe non ha mai preso soldi pubblici dobbiamo ricordarla questa cosa perché in italia anche i quotidiani cosiddetti grossi importanti quelli storici come il corriere della sera come repubblica eccetera la stampa di torino eccetera il messaggero hanno ricevuto denaro pubblico o direttamente o indirettamente quali sconti hanno approfittato di leggi molto generose con la stampa in più lo hanno fatto quotidiani che non starebbero in edicola un solo giorno senza i contributi pubblici che vendono pochissime copie o che non vendono per nulla vendono cifre ridicole e ce ne sono stati tanti c'è stata l'opinione c'erano questi quotidiani iper berlusconiani l'informazione ma c'è stato anche e c'è ancora il foglio un quotidiano che che ha dei numeri imbarazzanti di vendita ma che continua a essere considerato a essere come dire il suo direttore viene spesso invitato nei talk show e si riportano gli altri giornali nelle rassegne stampa commentano gli articoli di un quotidiano che non ha che non ha lettori invece il fatto quotidiano ha sempre camminato sulle sue gambe così come la notizia il quotidiano diretto da Gaetano Pedullà e vi dico che c'è un mio articolo oggi sulla notizia che riguarda Giorgia Meloni e Matteo Salvini e il loro atteggiamento un po' imbarazzante di questi ultimi giorni lo pubblicherò anche su questa pagina alla fine di questa diretta dicevo che il fatto ha compiuto come spesso fa un buon lavoro per carità delle volte anch'io non sono d'accordo con alcune cose che scrive il fatto con alcune analisi e me è meglio così è sempre bene quando non si è sempre d'accordo se si è troppo d'accordo vuol dire che c'è qualcosa che non va quando chi fa politica e chi fa informazione sono troppo d'accordo è troppo d'accordo è un peccato però riconosco al fatto una grande libertà di pensiero e di opinione e alcuni bravissimi giornalisti come Marco Lillo come Marco Travaglio come Gianni Barbacetto Peter Gomez Andrea Scanzi ed altri e il fatto in questi giorni ha ricostruito una anomalia tutta italiana sulla quale vi invito a riflettere Matteo Renzi è il segretario il leader di un piccolissimo partito che non si è candidato alle elezioni che non esisteva nel 2018 quando siamo andati democraticamente a votare non esisteva Italia Viva esisteva il PD Matteo Renzi che aveva detto mi ritiro dalla politica mi vedo a ridere ma ci sarebbe da piangere aveva detto mi ritiro dalla politica se perdo il referendum costituzionale lo aveva detto lui lo aveva detto Maria Elena Boschi lo aveva detto Ernesto Carbone lo aveva detto la Fedeli insomma aveva detto un po' di un po' di persone vicine a Renzi e Renzi stesso non l'aveva detto che so in un'intervista o in una telefonata con un amico no lo aveva detto anche al senato nella solenne veste di presidente del consiglio dei ministri quello che oggi è conte era allora nel 2016 Renzi e disse Renzi ribadisco che se il referendum va male se vincono i no referendum nel 2016 cosiddetto boschi verdini insomma una riforma costituzionale a mio parere suicida terribile e sono ben felice che abbiano vinto il no abbiano vinto i no e che cambiava mi sembra 54 articoli della costituzione quasi la metà della costituzione beh dicevo Renzi in quell'occasione disse al senato nella solenne aula camera alta del parlamento italiano nell'aula del senato Renzi disse ribadisco che smetterò di far politica se perdo questo referendum perché esiste un valore che è il valore della dignità ve lo ricordate se non ve lo ricordate ritroviamo il filmato e lo pubblichiamo andatevelo a cercare in senato e non lo disse ripeto al bar dopo magari qualche bicchiere di troppo questo in quel caso sciocchezze ne diciamo tutti quando siamo con gli amici e non c'è niente di male se diciamo qualche sciocchezza con gli amici no al senato è diverso se fai il presidente del consiglio e dici una cosa poi la devi mantenere se non lo mantieni vuol dire che la tua parola non vale abbastanza e quello purtroppo è a mio parere anche una colpa grave di Renzi che lo ha anche stromesso poi dal dal favore dei cittadini italiani e degli elettori perché avrebbe potuto benissimo lasciare la politica e magari dopo qualche anno rientrare ma invece lui ha preferito mentire dire una cosa e farne un'altra lo aveva fatto anche in precedenza ricordiamolo aveva detto in un programma televisivo di Daria Vignardi da leader del PD lei disse gli fece la domanda Daria Vignardi vuole governare l'Italia vuole fare il presidente del consiglio Renzi disse io certe cose non me le dimentico fare memoria è sempre buono disse io voglio farlo sì ma passando dalle elezioni non passando da una manovra di palazzo poi disse vorrei fare l'hashtag Enrico stai sereno c'era Enrico Letta allora presidente del consiglio io non cambierò idea se cade il governo Letta andiamo a elezioni e poi io voglio fare il presidente del consiglio non lo faccio con una manovra di palazzo poco dopo cosa fece manovra di palazzo cade Letta e Renzi diventa presidente del consiglio senza essersi candidato alle elezioni e senza essere stato come dire proposto dal suo partito dal PD poi come vi ho detto c'è stata la cosa del referendum e poi ci fu il momento in cui Renzi disse due cose importanti di cui alcuni non si ricorda disse anche è ignobile che la politica italiana venga condizionata da partitini che hanno il 3 per cento lo disse lui e oggi è lui che condiziona la politica italiana con un partitino che sta al 2 per cento e disse anche indimenticabile anche questo perché vedete ne ha detto talmente tante che uno poi ci deve fare anche un lavoro uno sforzo di memoria per ricordare chi è Renzi durante un programma televisivo che era porta a porta condotto da Bruno Vespa Renzi aveva vicino se ben ricordo Labinetti una è stata eletta con il partito democratico e poi lasciò il partito democratico quello che fanno i traditori del Movimento 5 Stelle purtroppo anche che sono passati al gruppo misto al PD ai Verdi a Forza Italia a Fratelli d'Italia alla Lega tutti sono andati in tutti gli altri le altre a qualcuno si è fatto un partito suo come quello lì che ancora sta aspettando il golpe paragone di un anno fa allora Renzi a porta a porta disse a una deputata o una seratrice a una parlamentare italiana eletta con il PD che poi lasciò il PD Renzi gli disse una cosa con la quale sono d'accordissimo disse tu devi lasciare anche il Parlamento se sei una persona seria ti dimetti da parlamentare e poi ti fai rieleggere con un altro partito perché sei stata eletta col PD perché stai lasciando il PD e rimani parlamentare stai tradendo gli elettori disse una cosa con la quale io sono perfettamente d'accordo in quel caso con Renzi solo che poi lui ha fatto esattamente quella stessa cosa è stato eletto con il PD dopo che aveva detto non faccio più politica ha continuato a far politica è stato eletto senatore con il PD disse che sarà un senatore semplice pensa se era un senatore complicato cosa avrebbe combinato e però pur essendo eletto con i voti del PD ha lasciato il PD ma è rimasto parlamentare senatore e ha portato con sé delle persone fondando un nuovo partito ma tutte quelle persone erano state elette con altri partiti quindi al momento in cui nel 2018 siamo andati a votare democraticamente ciascuno di noi io ero addirittura candidato per il Movimento 5 Stelle in un nominale dato per perso ma con grande coraggio mi sono candidato e quindi ho votato per il Movimento 5 Stelle ci mancherebbe altro ciascuno ha votato chi voleva chi è voluto la Lega ha votato la Lega chi ha voluto Fratelli Italia ha votato Fratelli Italia il Movimento ha votato Movimento che ha stravinto quelle elezioni il PD ha avuto il suo 17% se ben ricordo di voti di gente che ha votato PD non ha votato Italia Viva non ha non esisteva quel partito lì esisteva l'EU non esisteva Italia Viva allora io vorrei capire come sia possibile e ha fatto bene il fatto quotidiano a sottolinearlo che alcuni giornali in queste ultime settimane stiano dando ogni giorno uno spazio enorme a personaggi di un partito che non era neanche candidato alle elezioni e che ha semplicemente preso i voti degli elettori di un partito di altri perché peraltro con Italia Viva è passata pure una eletta del Movimento 5 Stelle purtroppo Gelsomina Bono e quindi anche eletti di altre forze politiche è un partito nato dal tradimento della volontà popolare ok questa è la verità voi direte ma perché ci avete fatto un governo con Renzi e con il PD e con l'EU beh perché l'Italia ha bisogno di un governo e quando c'è una persona autorevole come Conte che mette ministri autorevoli come Patonelli come Di Maio come Catalfo come Azzolina eccetera eccetera è giusto governare l'Italia lottando contro qualcuno piuttosto che lasciare il governo a personaggi come Salvini come Lameloni come Berlusconi e come Renzi perché quelli secondo me sono prontissimi ad allearsi tutti insieme contro il Movimento quindi a me non stupisce che qualcuno come dire si continui a confermare come un personaggio molto particolare della politica italiana per non dire altro quello che mi stupisce è lo spazio che gli danno questi giornali e il Fatto Quotidiano ha fatto un ottimo lavoro ricordando chi sono quei giornali quei quotidiani che danno voce e spazio a Renzi da chi sono chi sono i proprietari gli editori chi sono sono editori puri o sono editori impuri purtroppo come sempre accade in Italia sono editori impuri si tratta in realtà di quotidiani che servono a sponsorizzare diciamo così il padronato il vecchio potere italiano quello economico quello robusto quello legato a Confindustria vedete la prima pagina del Fatto di oggi scusatemi se sposto qui ve la faccio vedere sull'altro telefono dietro a Renzi e C le voci dei padroni ed è giusto che sia così io sono abbonato al alla versione pdf del Fatto quindi diciamo non commetto niente di strano a farvi vedere questo tutti i ricatti renziani a giornaloni unificati a me piace questo questo articolo firmato se ben ricordo da giarelli da lorenzo giarelli da giarelli non mi ricordavo il nome scusate lorenzo giarelli che vedete riporta tutti questi titoli aspettiamo conti al senato e le elezioni tutti sanno che non si andrà a votare è il corriere della sera è la stampa è il messaggero è repubblica è domani eccetera 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 allora perché è importante ricordare chi è che sta dando tutto questo spazio a Renzi perché dietro il messaggero per esempio il messaggero è di proprietà di Caltagirone che Caltagirone è il palazzinaro per eccellenza dell'Italia è il stato il padrone di Roma ha avuto sindaci che gli hanno concesso spazi edificabili impensabili in una città già così tanto edificata come Roma penso a Veltroni soprattutto ma anche ad Alemanno Marino in parte anche a Rutelli e il messaggero attacca Virginia Raggi il messaggero attacca Virginia Raggi perché con Virginia Raggi il consumo di suolo semplicemente delirante che c'era prima in favore dei costruttori si è fermato giustamente si è fermato perché Virginia ha amministrato Roma con tutti i suoi limiti e la sua fatica normale visto che aveva 14 miliardi di euro sul groppone ma ha amministrato Roma pensando agli interessi dei romani non agli interessi dei costruttori e questo è il messaggero ma Repubblica di chi è della Fiat la Fiat è il classico esempio di vecchio potere italiano economico che influisce fortemente sulla politica italiana sull'informazione il gruppo Fiat ha acquistato la stampa e Repubblica il gruppo Gedi cosiddetto togliendolo alla famiglia di Carlo De Benedetti e questo attacca sempre e comunque il Movimento 5 Stelle attacca sempre e comunque il governo Conte perché vedete quando arrivano 209 miliardi di euro anche in una situazione di drammatica emergenza come questa gli imprenditori abituati a prendere a prendere a prendere soldi dallo Stato hanno molta paura di una gestione trasparente di quei soldi come verrebbe assicurata da Giuseppe Conte e dal suo governo e quindi in qualche modo sognano che Conte cada noi queste cose le dobbiamo dire le dobbiamo spiegare alla gente il segreto desiderio più o meno segreto inconfessabile di molti imprenditori italiani vecchi che ragionavano in quel modo che ha portato l'Italia ad avere determinati debiti ad avere determinati livelli di corruzione di evasione fiscale di elusione fiscale internazionale sono quelli che oggi tifano contro Giuseppe Conte lo dobbiamo dire e questo vale per quotidiani come quelli di cui abbiamo parlato ricordo anche l'editore Carlo De Benedetti che prima aveva il gruppo Repubblica Espresso eccetera adesso ha fondato un giornale un quotidiano che si chiama domani e anche quel quotidiano ha la sua linea editoriale che vai contro il movimento vai contro Giuseppe Conte questo è un fatto è una linea politica peraltro in alcuni di questi quotidiani lavorano bravissimi giornalisti gli autori della casta Rizzo e Stella lavorano insomma hanno lavorato sempre per Corriere e poi Repubblica adesso Rizzo ma insomma sono giornalisti bravi nel quotidiano domani lavorano giornalisti molto bravi nelle settimane all'Espresso lavorano giornalisti molto bravi sulla Corriere della Sera c'è Fiorenza Sarzanini non sto dicendo non sto come dire accusando uno per uno le persone che lavorano lì perché sarebbe una cosa stupida io sto spiegando a tutti nel caso qualcuno non lo sapesse ancora che dietro quella stampa che detta l'agenda dietro quei talk show che sono organizzati in modo tale che se ci vado io se ci va uno di noi deve sempre difendersi deve sempre partire in difesa l'ultima volta che sono stato all'aria che tira l'altra mattina c'era Minzolini ex senatore di Forza Italia condannato per una storia di carte di credito ex volto della RAI potente dirigente della RAI quando c'era il governo Berlusconi poi senatore di Forza Italia poi parlamentare di Forza Italia senatore poi aveva una condanna quindi doveva decadere ci ha messo un bel po' a decadere insomma Augusto Minzolini sapete di chi sto parlando Minzolini che per carità è anche una persona molto intelligente con la quale io discutevo quando è iniziato il programma sia il conduttore Francesco Magnani che Minzolini hanno iniziato a parlare male di Conte e poi Gianrusso replica tu no non funziona così non funziona così se voi partite presentando al pubblico già una tesi preconfezionata in cui il governo non va bene Conte non va bene va tutto male quando chiudiamo i negozi le cose eccetera perché purtroppo c'è un'emergenza non è che nessuno noi vorremmo aprire ridare libertà a tutti io sono il primo a subire questo tipo di limitazioni come tutti i cittadini italiani allora quando si chiudono è perché c'è una ragione quando si chiude le interviste sono ai commercianti che dicono oddio siamo in difficoltà giustamente giustamente non si non si intervistano mai quei commercianti che dicono ci sono arrivati i ristori siamo contenti mai si intervista sempre qualcuno che si vuole lamentare poi spesso e volentieri questo qualcuno si candida con fratelli d'italia è vicino a questo quel partito di destra bene o poi quando invece si capisce che è giusto chiudere perché tutti i paesi europei lo fanno perché purtroppo ci sono i morti quotidianamente si cambia registro si attacca conte non più perché è chiuso ma perché i vaccini non vanno abbastanza bene non ce ne sono abbastanza siamo il secondo paese europeo per numero di vaccini potremmo essere anche il primo stiamo andando bene con il percorso vaccinale nonostante alcune regioni lavorino malissimo la lombardia ha avuto finora un assessore alla sanità di nome gallera che ha ricoperto a mio parere di ridicolo quella regione con una due tre quattro dieci gaffe consecutive compresa quella di andare a correre con un gruppo di amici in un periodo in cui era e uscendo dal dal territorio dove poter in un periodo in cui era vietato fare sport di gruppo lui si è fatto il selfie con gli amici ed era vietato uscire dal proprio territorio e lui uscito dal territorio ora io dico e quello è l'assessore alla sanità capite uno che dice siccome c'è l' rt l'indice di contagio è a 0 5 devo avere due persone malate o positive al virus per contagiarmi e fa pure un video e lo dice cioè non ha idea di che cosa sia questo virus non ha idea di come si trasmetta questo viso è stato non so se l'hanno già sostituito ma lo sostituiranno è stato assessore alla sanità finora e se ne parlava come di candidato sindaco di milano cioè siamo all'ubriachezza molesta mi pare di capire siamo impazziti definitivamente però se tutte queste cavolate stavo per dire una parolaccia che ha detto gallera le avesse dette uno di noi uno con questa giacca con questo simbolo non un traditore di quello che è passato altrove uno che si tiene orgogliosamente il simbolo del movimento addosso tutti i giornali avrebbero parlato di questo dalla mattina alla sera dalla mattina alla sera tutte le prime pagine avessi detta io una scemenza del genere avessi fatto io un sport con i miei amici mi piacerebbe farlo ho smesso di giocare a pallone ho smesso di fare sport perché è vietato perché è pericoloso e quindi mi attengo alle regole ok fossi andato a correre con i miei amici uscendo dal mio comune dalla mia zona di pertinenza porca miseria avrebbero fatto i titoli in prima pagina su tutti i giornali già russo esce dalla zona e fa le foto con gli amici si deve dimettere eccetera eccetera l'ha fatto l'assessore alla sanità della lombardia e tutti hanno fatto pippa ora questo sistema dell'informazione è la prima causa di mal governo di questo paese se non lo aveste capito perché molta gente vota certamente in mala fede perché magari ha convenienze perché è una clientela perché siamo abituati a pensare al voto come io voto quello e poi quello mi fa un favore che è la cosa più sbagliata che si possa pensare ma c'è anche tanta gente che invece in buona fede crede a certi cialtroni perché non ha a disposizione un'informazione pienamente obiettiva e democratica e sappiate che così come ci deve essere uguaglianza di fronte alla legge tutti i valori costituzionali che dicono che tutti i cittadini sono uguali tutti i cittadini per essere davvero uguali dovrebbero avere accesso ad una informazione corretta pluralista e obiettiva cosa che spesso non succede e allora il cittadino che accende la tv e sente la presentatrice sorridente che dice che conte un cialtrone o minzolini che viene invitato come se fosse super partes quando insomma per carità minzolini è una persona valida ma valida per le sue idee per la sua parte politica è stato anche condannato siamo sicuri che è giusto che un condannato parli in tv come se fosse l'oracolo della verità siamo sicuri che è corretto secondo me no secondo me no vorrei capire perché vengono invitati questi personaggi e gli viene dato questo peso vengono presentati non come esponenti di una parte politica vengono presentati come esperti che parlano così poi abbiamo i medici politicizzati zangrillo ex medico di berlusconi legato a formigoni coinvolto in alcuni processi il cui fratello è coinvolto in alcuni processi che va in tv e parla e dice la carica virale esaurita ma se l'avesse detto uno di noi una coglionata di questo genere la carica virale praticamente esaurita il virus non c'è più se l'avesse detto uno qualunque di noi cosa sarebbe successo cosa succederebbe ora che c'è stata la seconda ondata tutti ci rinfaccerebbero quello a zangrillo non glielo rinfaccia nessuno ancora sta lì e burioni aveva detto che il 22 febbraio che era più facile essere colpito da un fulmine in testa piuttosto che prendere il virus in italia ve lo ricordate burioni sulla rai pagato con soldi pubblici ora dico tutta questa gente qui guarda caso è tutta contro il movimento ci avete fatto caso fateci caso come diceva aldo fabrizzi tutta questa gente qui è sempre contro il movimento e oggi matteo renzi sta mettendo a dura prova sta mettendo in crisi ha messo in crisi un governo di cui abbiamo bisogno perché l'italia qui in europa io mi trovo a bruxelles l'italia qui in europa ha potuto contare finora su un presidente del consiglio dalle spalle molto larghe molto ammirato molto rispettato se oggi noi perdiamo la figura di riferimento di giuseppe conte sarà molto più complesso continuare l'opera di cambiamento che è avvenuta anche in europa lo capite questo no lo vogliamo spiegare a tutti o no perché il problema è proprio questo chi guarda all'italia con attenzione e conosce quello che hanno fatto in passato berlusconi renzi monti personaggi che non hanno buona fama qui nei palazzi di bruxelles e non perché a bruxelles sono brutti e cattivi perché vedete l'europa è stata molto negativa per l'italia perché l'europa è stata gestita da quei burocrati europei lì conte rappresenta il cambiamento rispetto a quei burocrati così come lo rappresenta in italia rispetto a politicanti di ogni genere da berlusconi a prodi gentiloni quelli che l'hanno preceduto per carità qualcuno a mio parere è stato meglio di altri non sono tutti uguali non penso che letta sia uguale a berlusconi e così via però sicuramente nessuno di loro ha rappresentato il cambiamento tutti a destra come a sinistra hanno rappresentato il vecchio potere italiano hanno fatto favori agli editori di quei giornali sono stati legati a poteri economici e poteri politici e poteri amministrativi di questo paese pensate a tutta la macchina della giustizia pensate a tutta l'organizzazione che c'era dietro palamara come mai palamara parlava con lotti come mai palamara parlava con politici di questa di quell'altra parte e non parlava mai con uno del movimento meno male che non parlava con nessuno del movimento meno male che nessuno del movimento ha solo pensato di condizionare le libere scelte del csm che poi libere abbiamo visto non erano perché erano legate al potere politico invece in italia per la nostra democrazia per la nostra costituzione potere legislativo esecutivo e giudiziario devono essere tre poteri indipendenti l'uno dall'altro purtroppo il potere giudiziario non sempre è stato indipendente allora chi oggi sta giocando come se fosse un tavolo da gioco una roulette un casino un tavolo da da cemento e ferra al casino sta giocando alla crisi cioè renzi lo sta facendo con un partito che non esisteva al momento del voto e quando lui ha detto a quella senatrice a quella parlamentare eletta col pd che poi ha lasciato dovresti dimettiti da parlamentare perché nessuno quando invita renzi quando lo intervistano in questi giornali perché nessuno gli ricorda quella roba lì ma perché non glielo ricorda io vorrei parlare con questi giornalisti ma scusate ve lo dico da amico ma dico perché nessuno di voi ha il coraggio di dire a renzi scusami ma tu sei quello che diceva una parlamentare eletta in un partito e poi transitata in un altro dovresti dimetterti da parlamentare tu non hai fatto la stessa cosa gli vuoi chiedere scusa a quella parlamentare lì o vuoi chiedere scusa agli italiani perché per l'ennesima volta hai detto una cosa e ne hai fatta un'altra nessun giornalista gli va a dire quello oggi a renzi e cosa rischiamo noi oggi rischiamo una più difficile gestione dei 209 miliardi di recovery fund e rischiamo anche un come dire un calo della credibilità italiana in europa e nel mondo il che significa due cose la possibilità che si rialzi lo spread che quindi le nostre tasche i nostri interessi vengano colpiti da questa crisi ma anche la possibilità che conte vada a casa che il processo di cambiamento in atto si fermi e che arrivi l'ennesimo burocrate di stato a gestire tutto il paese no io mi auguro che si possa uscire da questa crisi scusatemi leggo le ultime notizie sì mi auguro che si possa uscire da questa crisi con giuseppe conte ancora a guida di un del nostro governo me lo auguro fortemente perché un segnale di cambiamento forte è una persona che viene dalla società civile non è un politico di professione lo ha dimostrato ha dimostrato anche schiaffeggiando tutti quelli che dicevano che la politica deve essere un mestiere no non è per forza così conte ha dimostrato che si può essere politici più efficaci dei politicanti che stanno nelle segreterie di partito che fanno anticamera per vent'anni e poi sfruttano la loro posizione di parlamentare come una posizione di potere conte ha dimostrato che non è che non è così ecco c'è una una leggera un'ultima un'ultima dichiarazione di conte che dice rafforzare la solidità della squadra l'apertura al dialogo non è mai mancata e sarà sempre così il recovery plan è migliorato grazie ai partiti adesso bisogna però correre bene allora ragazzi io ci tenevo a rappresentarvi questa situazione queste 100 interviste che vengono fatte ogni giorno a renzi a boschia scalfarotto addirittura scalfarotto alla bella nuova eccetera e incredibilmente alcuni giornali alcuni programmi televisivi alcune reti televisive gli danno questo grande spazio spero che vi sia chiaro un po più chiaro oggi il perché renzi nel momento in cui decide di colpire conte colpire il cambiamento viene come dire messo sotto la luce dei riflettori dell'informazione malata di questo paese adesso per il resto mi piacerebbe rispondere a un po di vostre domande se volete farmi le domande quindi vi prego di rifarle se le avete fatte in precedenza sappiate che non le ho lette perché mi piaceva spiegarvi il mio punto di vista sulla questione renzi e sulla questione della crisi di governo il perché è chiaro sono fatti della stessa pasta dice antonella cristiano hanno l'unico scopo di far cadere il governo sì naturalmente leggo alcuni dei vostri messaggi ma se volete fare le domande è il momento di farle a qualcun altro mi ha chiesto se ci sono sviluppi rispetto a report a quello che ha detto report ragazzi gli sviluppi come via come temevo ne abbiamo parlato anche ieri nella diretta pochi giornali hanno parlato di questa puntata clamorosa di report c'è un bel pezzo di marco lillo sempre del fatto che dice che fa gli elogi a report ma è un tipo di giornalismo giornalismo che in italia ha poco spazio asia santoro mi chiede non so se ne hai parlato bisogno di un chiarimento sull'ultima puntata di report asia se mi fai una domanda io ti rispondo molto volentieri nessun rimpasto né concessione meglio andare in parlamento far riuscire lo scoperto sì sono d'accordo lucia massa dovrebbe dice dovrebbe esserci una una discussione sulla fiducia in parlamento ma io penso che conte che rispetta molto le istituzioni e se servirà farà una passaggio parlamentare la parlamentarizzazione della crisi cosiddetta ma la fiat perché dei francesi ora avete venduto tutto vendete parole come sempre il comunismo cerca i poveri per triplicarli caro alejandro paolo meleca non so che cosa quali confusione c'è nella tua testa la fiat è un'azienda privata quindi se la società la proprietà della fiat vuole vendere quote o fare accordi come ha fatto in passato sia con americani con società americani come la crais americana come la chrysler o con società francesi come la psa cioè peggio gruppo peggio citroen ha il diritto di farlo naturalmente rispettando le norme antitrust eccetera eccetera quello sicuramente sì e sono certo che se non fosse così il governo le farebbe rispettare ma non è che il governo vende la fiat per intenderci che insomma c'è un limite anche alle sciocchezze che si possono dire e leggere allora parlaci della questione della ministra catalfo è vero che darete il ministero a renzi cara carmelina ti ricordo che io sono parlamentare europeo quindi non mi occupo direttamente di questo ma mi auguro che la mia concittadina annunzia catalfo rimanga al suo posto tonino martorana il prossimo g20 a presidenza italiana saluto tonino martorana che conosco che presidenza vedrà io mi auguro che vedrà la presidenza di giuseppe conte vincenzo crispini mi scusi ma sarà possibile senza concessione a sto viscido continuare con conte è quello che io mi mi auguro bisogna vedere i numeri vi ricordo che per questo lo dico anche per chi dice ama siete al governo non avete risolto tutto è certo che non abbiamo risolto tutto però abbiamo risolto tante cose quegli altri che stavano prima non avevano risolto nulla la bacchetta magica non l'abbiamo e non siamo al governo da soli siamo al governo grazie a una legge anzi a causa per colpa di una legge elettorale schifosa siamo al governo con altri angelo monaco dice una cosa molto giusta abbiamo finalmente un primo ministro che anche in germania è molto apprezzato mi chiedo renzi non doveva uscire dalla politica si angelo doveva uscire mi chiedo se angelo monaco viva in germania probabilmente sì allora giuseppe notaro mi dice dino a che punto è la macchina organizzativa del movimento tu hai buone possibilità di diventare uno dei cinque caro giuseppe quando ci saranno le elezioni e si deciderà come votare l'organo collegiale io deciderò se candidarmi è una possibilità che come dire che tengo in conto più che altro perché molti di voi mi hanno chiesto di farlo e quando gli attivisti chiedono a un portavoce di rappresentarli è giusto ascoltarli voglio prima però capire come si voterà e temo che la crisi di governo abbia possa avere rimandato comunque rallentato quel quel percorso antonio bertucci lo ridice ma lo ridico anch'io spiega la madre di tutte le colpe quella legge elettorale che ci ha costretto a non governare da soli lo so antonio è così grazie a sabrina ragione d'alema ecco renato rocci cita una frase che ha detto oggi d'alema persino d'alema vedete l'altro giorno c'era mastella in televisione mastella è il politico più distante possibile da me è molto vicino a quei traditori del movimento che dicevano il movimento è come l'udeur quindi non ci piace loro dicevano il movimento è come l'udeur pensate quanti condannati all'udeur gente del movimento che diceva prima diceva il movimento è come l'udeur cioè un partito pieno di condannati dicendo il falso poi dice me ne vado dal movimento e vado in un altro partito vado nei verdi vado nel pd vado fondo un partito mio ma scusami questo è quello che ha fatto l'udeur traditori ma anche voi mi sembrate come renzi ma avete il coraggio delle vostre azioni avete detto che non vi piace il movimento perché come l'udeur e non è vero per fortuna non è vero poi vi siete dimessi dal movimento per andare in altre forze politiche e come l'udeur vi siete tenuti la poltrona e lo stipendio e non vi siete dimessi da parlamentare chi è come l'udeur forse voi siete come l'udeur vi comportate perlomeno come molti rappresentanti dell'udeur a partire da mastella che passava a destra a sinistra di qui e di là e persino mastella ma persino d'alema che come dire a differenza di mastella perlomeno è un politico che non ho mai amato ma è sempre stato da una parte la sinistra d'alema ha detto oggi non possiamo permettere che il politico più apprezzato d'italia conte venga fatto fuori dal politico meno apprezzato il più detestato d'italia che è renzi cioè l'ultimo in ordine di gradimento degli italiani non può eliminare il primo sembra una banalità quella detta da d'alema però purtroppo non lo è perché lo ricorda anche renato rocci questa è una cosa che sta che potrebbe accadere marco ruzzarin spiegami la vicenda scorie nucleari ne approfitto scorie nucleari importantissimo allora in italia vi sono dei rifiuti nucleari legati alle vecchie centrali e legati a quegli strumenti che fanno radiografia insomma tutti quegli strumenti che ha bisogno di materiale radioattivo queste scorie da tanti anni bisognava tirar fuori da parte della società sogin che è controllata dal mese se ben ricordo doveva tirare fuori la lista dei potenziali luoghi dove si potrebbero interrare in sicurezza queste scorie è una cosa che aspettavamo da sei anni sei anni quindi il fatto che ci siano state che sia venuto fuori questa lista è una cosa positiva deve essere chiaro è una cosa positiva che sia venuta fuori questa lista poi attenzione non mi piace quella lista ci sono alcuni luoghi che ritengo incredibile anche che ci siano perché non esiste al mondo che ci siano zone sismiche per esempio perché se tu interri questi rifiuti e poi c'è un terremoto è una cosa che non va però quella è semplicemente una lista di partenza rispetto alla quale tutte le regioni e poi le comunità locali quindi sindaci devono dare le loro osservazioni se non si faceva quella lista noi avremmo continuato a smaltire in altri paesi europei pagando milioni 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 forse miliardi di euro ok per fare questo invece noi dobbiamo avere naturalmente ho letto tra i deliranti le deliranti follie di alcuni anche attivisti ex attivisti non so più come come nominare quelli che che ascoltano paragone che se ne vanno gli altri partiti oggi ho letto a questo è un trucco per prenderci noi i rifiuti di altri paesi no l'italia non può prendere rifiuti nucleari di altri paesi sia chiaro è molto importante che voi sappiate che il governo mi sembra fosse l'ultimo governo berlusconi aveva preparato un piano per tornare al nucleare per tornare all'energia nucleare in italia per fortuna c'è stato un referendum che è stato perso chiedo scusa se non era il governo berlusconi ricordo male un governo di diversi anni fa bene allora quel tipo di lista che è uscita è il frutto di quella vecchia politica qualcuno dice ma perché l'avete fatta uscire non dovevate no ragazzi la sogin aveva l'obbligo meno male che uscita quella lista perché se esce una lista se ne può discutere la si può contestare la si può cambiare si può trovare un'altra soluzione finché non usciva quella lista eravamo bloccati e quei rifiuti che ancora sono in italia sono in situazioni meno sicure di quelle in cui dovrebbero essere allora perché le iene non si occupano mai di berlusconi mi chiede massimiliano vassallo tu sei stata una iena quindi potresti rispondere attendo la tua risposta caro massimiliano te lo dico con molta serenità quando io ho fatto le iene berlusconi non era più in politica perché sono stato io ho fatto per un po meno di quattro anni non non era più politico perché era stato cacciato a causa di una condanna dal senato e non si poteva più candidare per cui in quegli anni diciamo lui personalmente non era un politico quindi non potevo occuparmi di lui ma mi sono occupato di molti del suo partito gasparri per esempio che si arrabbiò tantissimo mi ricordo con me alemanno la mussolini la santanchella la allora c'era nunzia di girolamo c'era tremonti insomma ho beccato senza pietà tutti quelli che dovevo beccare di tutti i partiti minzolini tutti i partiti le forze politiche che c'erano presenti compreso forza italia senza farmi nessun problema ora ricordo che è stato chiesto a mi pare a filippo roba non so un altro delle iene perché non fate un'inchiesta su berlusconi e lui molto onestamente ha detto perché non andrebbe mai in onda essendo un canale di berlusconi un'inchiesta soprattutto su cose vecchie legata a berlusconi alle iene non andrebbe in onda e questo va va detto con la stessa sincerità con la quale io ti dico che non ho avuto alcun problema a occuparmi di persone del polo della libertà si chiamava allora del centrodestra di forza italia di quei partiti lì di cui faceva parte berlusconi quando ho avuto più problemi vi dico la verità è stato quando mi occupai di renzi una volta perché mi sono occupato diverse volte ma feci due servizi sugli scontrini di renzi il primo andò regolarmente in onda ed era forte il secondo che era ancora più forte non andò in onda in quanto gli avvocati dissero che secondo loro non era 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 passabile di querele eccetera io non ero d'accordo ho come dire accettato questo periodo l'ho detto perché non mi censuro non mi censuravo quando erano le iene né tantomeno adesso ho detto con molta chiarezza che ero deluso che ero dispiaciuto ma che come dire se gli avvocati avevano scelto così non potevo farci nulla non è qualcuno mi ha detto perché non lo pubblichi lo stesso perché non è di mia proprietà io vendevo il mio lavoro a una società che era mediaset vi ricordo che molte persone molto valide hanno lavorato anche per berlusconi ci ha lavorato paolo sorrentino nei suoi ultimi film alessandro di battista ha pubblicato due libri con case editrici di berlusconi io ho lavorato alle iene che va in onda su un canale televisivo di una società che appartiene alla famiglia berlusconi che che italia uno tanti di noi hanno lavorato direttamente o indirettamente per la famiglia berlusconi ma l'importante è mantenersi liberi come potete vedere anche dalla mia pagina facebook come dire non ero un portavoce del movimento 5 stelle ma ho sempre parlato male di berlusconi come politico perché è un politico che secondo me è stato disastroso in questo paese ho sempre ricordato e l'ho fatto anche ieri in diretta ma lo facevo già anche quando lavoravo alle iene senza problemi vatti a scorrere la mia pagina facebook di quanto i legami fra forse italia berlusconi il suo partito e la mafia fossero un dramma italiano oltre che un mistero italiano perché dico mistero perché vedete molti italiani non conoscono quella realtà e il problema è che gli italiani dovrebbero conoscerla poi ognuno continuerà a scegliere a votare quel che vuole ma gli italiani devono conoscere per questo ho apprezzato report l'ho difeso perché gli italiani devono conoscere capisci come stanno le cose come sono andate le cose ci vorrebbe un canale youtube 5 stelle dice marco pasquali si può andare avanti mi chiede cristina azzurro senza renzi sono i numeri perché sta esagerando cara cristina credo che proprio la crisi parlamentare si stia come dire giocando su questo però vi ricordo che sono parlamentare europeo naturalmente mi sento con molti amici colleghi parlamentari italiani naturalmente io credo che sia da pazzi oggi mandare l'italia al voto con con tutti i problemi che abbiamo la difficoltà di fare le campagne elettorali la difficoltà di andare a votare gli assembramenti che si creerebbero sarebbe un voto secondo me come posso dire alterato poco trasparente poco limpido alterato dal covid quindi davvero mi auguro che non ci sia questa scelta irresponsabile però l'italia è una repubblica parlamentare quindi se in parlamento non ci sono non c'è più la fiducia per fare un governo per sostenere un governo il governo conte dobbiamo rispettare e andare al voto io mi auguro che questo non accada perché è anche pericoloso da un punto di vista proprio della dell'incolumità della salute della salute pubblica sarà più difficile patrizia cenni avere soldi dall'europa se cade il governo conte fortuna de rosa bisogna andare in tv e dire gli italiani cara fortuna io ci provo a ecco la domanda di asia santoro la leggo che interessi avevano le parti coinvolte nella strage di bologna allora dico la mia la strage di bologna come tutte le grandi stragi in questo paese aveva l'effetto di destabilizzare il paese e quindi di come dire rendere meno forti le parti più rivoluzionari le parti più di cambiamento allora politiche di questo paese le trame nere legate a eversione di estrema destra legate a massoneria deviata come quella di viciogelli e anche purtroppo a personaggi dei servizi quindi pagati in teoria dallo stato quindi pezzi deviati dello stato hanno portato e criminalità organizzata si è visto report lo ha spiegato molto bene dei di molti legami fra criminalità e eversione nera e servizi deviati dello stato questi legami economici avevano tutto il vantaggio che ci fosse instabilità nel paese e paura perché quando c'è paura e instabilità ci si affida più facilmente all'uomo forte perché quando c'è paura e instabilità si teme il cambiamento quando c'è paura e instabilità si può chiudere un occhio diciamo così l'opinione pubblica di fronte a determinati abusi della classe al potere questa scelta quella di limitare la libertà in questo modo subdolo è stata una tattica la cosiddetta strategia della tensione rispetto alla quale dei misteri ci sono tuttora certamente vi dico sempre quando ci sono problemi di stabilità problemi di povertà di ristagno economico eccetera le mafie ci guadagnano perché quando una società va bene quando ciascuno di noi può mettere insieme il pranzo con la cena servire comprare i guaderni ai bambini crescere una famiglia affittare una casa avere un minimo di comfort per fare una vita dignitosa come previsto dalla costituzione quando tutti stanno così è più difficile scegliere di stare con la criminalità perché non ne hai bisogno lo fa solo chi ha ambizioni elevate e zero etica zero morale quando invece uno non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena se arriva un criminale gli dice se tu stai con me spacci lavori per me anche un ragazzino soprattutto io ti do i soldi quel ragazzino che non sta bene che vede la sua famiglia in povertà che non ha la possibilità di andare a scuola più facilmente cederà alla criminalità organizzata allora quel periodo di destabilizzazione dell'ordine pubblico serviva a rafforzare determinate trame nere e determinati criminali che in italia hanno sempre fatto affari anche con la criminalità organizzata per esempio attraverso il riciclaggio del denaro sporco della mafia della camorra e dell'andrangheta allora visto che salvini fa finta di non saperlo si chiama marcello 30 cannavi è stata realizzata da sogin in base al decreto legislativo 31 del 2010 articolo 27 chi c'era il governo nel 2010 come ho detto prima io berlusconi ma giustamente marcello 30 risponde la lega perché quel governo berlusconi era retto anche dalla lega ossia i siti sono stati selezionati in base ad una legge approvata dalla lega con forza italia giorgia meloni ministro della gioventù questo lo dice e lo ringrazio moltissimo metto pure il like al suo commento questa persona che si chiama marcello 30 bravo perché se ha anche citato la legge è vero che alcuni statori di italia viva sono pronti a tradire renzi e passare col pd no elisa è il contrario semmai hanno tradito il pd per passare correnzi perché italia viva non si era candidata alle elezioni allora perché non aboliamo l'immunità parlamentare l'immunità è già abolita tranne che per le la parola diciamo le opere legate all'espressione del pensiero è vero che solo l'uno per cento del recovery fan verrà destinato a noi giovani caro steven strefino no diciamo per adesso non c'è come dire un piano definitivo si stanno il piano si fa il piano su recovery fan su quei soldi si fa diciamo destinando in linea generale a vari settori determinate cifre e poi all'interno di quei settori ci possono essere cifre che vanno ai giovani non soltanto quelle destinate solo ai giovani faccio un esempio per l'agricoltura ci può essere una parte destinata alle giovani imprese giovani start up in settore agricolo che potrebbero avere più facilità ad avere dei contributi per dare lavoro a persone giovani per dirtene una quindi per adesso diciamo non non dobbiamo né cantare vittoria ma neanche cantare sconfitta come dire dino cosa pensi di agorà ho smesso di guardarla non mi piace più la costa magna no beh la costa magna mi piace gli ospiti che ti devo dire sono quelli che sono è un po peraltro che non mi invitano ultimamente non mi invitano granché allora io vi saluterei perché siamo arrivati a come al solito a fare quasi un'ora un'ora di diretta e sono un po provato non ho più voce se conte diventasse il capo del movimento scrive giuseppe notaro ipotesi potrebbe portare il movimento al governo monocolore 5 stelle è troppo azzardata con ipotesi caro giuseppe notaro mi vorrebbe dirti magari avere un governo monocolore 5 stelle credo che andremo verso una legge proporzionale spero che venga sostituito il rosatellum con una legge che preveda le preferenze mi auguro che il patrimonio di conte non venga sprecato però da qui a fare ipotesi mi pare un po presto adesso bisogna evitare la crisi mandate a quel paese il pinocchio della politica dice ciro garofalo franca e renuncio dice ho visto un video di salvini che ha dichiarato stiamo lavorando per far cadere il governo una cosa vergognosa in piena pandemia e lo so però poi dicono a me che salvini e meroni se la prendono con me va bene vi lascerò a breve su questa pagina l'articolo che ho pubblicato oggi sul quotidiano la notizia diretta da gaetano pedullà al quotidiano assolutamente valido che vi invito a comprare a leggere vi invito ad abbonarvi online perché meritano questi quotidiani come dire l'aiuto anche economico dei cittadini più liberi e peraltro abbonamento online ha un costo assolutamente accessibile lo dico perché gaetano pedullà è uno dei pochi coraggiosi che anche in tv non ha paura a dire la verità che non dire la verità sarebbe in teoria semplice in italia è particolarmente complicato vi abbraccio vi saluto e spero di potervi riparlare domani sperando che ci siano buone notizie e che chi con incoscienza sta pensando di far cadere il governo proprio in questo momento di mandare l'italia al voto proprio in questo momento capisca che ne risponderà davanti alla storia si faccia un esame di coscienza e torni sui suoi passi un abbraccio a domani